Il futuro del cibo e anche il futuro dell'innovazione secondo me è la cultura, nel senso che sempre di più il cibo serve a rispondere a dei bisogni primari di sossistenza e sempre più il cibo è significato, identità, cultura appunto, così anche la stessa innovazione è sempre meno tecnologia e sempre più il significato che noi potremo dargli, quindi credo che la sfida principale per la nostra società sia quella di riflettere su che tipo di innovazione e che tipo di alimentazione vogliamo chiedendoci che tipo di società vogliamo essere.